Ciao, sono Diego Riva, ex portiere dell'Hockey Alleghe, dove ho giocato 20 anni nella carriera in Serie A. Ho avuto anche la fortuna di partecipare a due mondiali, di Hockey su Ghiaccio, gruppo A, e all'Olimpiadi del 92 al Berville, dove proprio la Deborah, una delle nostre colleghe, ha vinto un oro olimpico. Sono contentissimo di partecipare a questa iniziativa e di donare questa mia bastone, questa mia stecca, che è la stecca con cui nel 2004 ho chiuso la carriera. Sono contentissimo anche perché abitando qui, a Caprile, ho vissuto pienamente questo disastro. Come si vede questa zona di Caprile di Alleghe è stata devastata e noi abbiamo avuto tantissima paura. Però siamo veneti, siamo montanari e non ci spaventa più niente. Io ringrazio tutti quanti che parteciperanno a questa nostra asta e ci vedremo il 26 di centri. Ciao a tutti!